I dati personali e finanziari di 380.000 clienti di British Airways sono stati rubati. Lo ha comunicato la compagnia aerea specificando che ad essere stati sottratti sono stati i dati dei passeggeri che hanno prenotato online o con l'app della compagnia tra il 21 agosto e il 5 settembre. Pare che non siano stati compromessi i dati relativi al viaggio e ai documenti d'identità. Siamo molto dispiaciuti delle conseguenze di questo crimine, dice una nota ufficiale della compagnia che aveva lanciato un'indagine interna e collaborato con la polizia postale e le autorità competenti. Individuata la violazione, la compagnia fa sapere che il sito è tornato a funzionare regolarmente.